Martedì 1 dicembre ci troviamo a Treviso per un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editori in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso per parlare di design e di contract nell'hospitality, nel retail, nell'ufficio e nel residenziale. Abbiamo anche parlato con tanti protagonisti di questa giornata di prodotti e novità presenti oggi sul mercato. Allora vediamo questo servizio che abbiamo realizzato. Noi siamo New Floor, un'azienda di Codevigo, provincia di Padova, che da circa 30 anni produciamo e vendiamo pavimenti sopraelevati. La nostra specialità è sempre stata quella di fare un prodotto fuori standard, quindi dimensioni che vanno oltre 60x60 cm e di lavorare materiali duri, quindi dalle pietre, dai marmi e alle ceramiche soprattutto. Quest'anno abbiamo introdotto due nuovi prodotti, uno è Forfor e un altro è Calidus, che vanno associati insieme. Forfor è una sorta di piedino che ha la caratteristica di essere innovativo perché è un piedino che ha una testa autocentrante, dove quindi viene appoggiato il pannello con quattro appositi fuori, quindi aiutare a costruire un prodotto che diventi anche antisismico, apponendo della colla silanica sia alla base del piedino che tra la testa del piedino e la guarnizione. Permette di avere una manutenzione più corretta perché il pannello ha la necessità di essere sempre alzato per la manutenzione e poi riposizionato sempre in un certo modo, quindi questo dà una garanzia appunto di una manutenzione più accurata e che quindi permetterà sicuramente una durata nel tempo e una miglioria nella conservazione del pavimento stesso. In secondo luogo, con l'uso di colla silanica il pavimento può diventare antisismico e questo può permettere la fuga, quindi l'esodo, in caso di situazioni come terremoti. Questo sistema è stato testato e ha superato quattro volte e mezza l'ultimo terremoto dell'Aquila. Questa tipologia di piedino viene associato a Calidus, che è un sistema di pavimento sopraelevato con applicato il sistema di riscaldamento radiante. Questa è un'innovazione perché innanzitutto permette al pavimento sopraelevato stesso di essere sempre completamente ispezionabile, che significa che il pannello può essere comunque sempre alzato per garantire la manutenzione nel plenum sottostante.